Non è mica possibile, d'estate si muore dal caldo, d'inverno si gela e io una bolletta così alta non la pago più. Sono d'accordo, guardiamo se troviamo qualcosa su internet. Ah ecco, questo è sempre interessante. Tra i zero house. Dai, andiamo a sentire cosa ci dicono. Magna. Buongiorno. Buongiorno. Prego, accomodatevi. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Che caldo. È a plan. Ci spiega che cos'è a plan. Certo, sì, però ora è un prodotto naturale ed italiano. E fissare, ci scusi. La nostra azienda offre un prodotto di isolamento che rispetta i termini della bioutilizza. Infatti i pannelli a plan sono realizzati con la lana delle pecore del nostro appennino e con la lana dei vecchi materassi che vengono riciclati. Non saprei. Guardi, la lana è un ottimo isolante termico e acustico. Infatti le sue proprietà sono disinquinanti, è una risorsa che si rigenera e in più purifica anche l'aria. La lavorazione come avviene? La lavorazione viene effettuata in un caseificio di vecchia produzione del parmigiano reggiano. Quindi anche la produzione è a chilometro zero. Qui la lana viene lavata, cardata e pressata fino a raggiungere lo spessore desiderato. Questi sono i nostri pannelli. La lana è un prodotto che non distrugge le risorse naturali. Inoltre la sua trasformazione in un elemento isolante richiede un bilancio energetico molto basso. Lo trovo molto interessante. Senti com'è soffice. Mettendo anche in conto che la lana viene considerata da tutti noi un rifiuto speciale. Però per la nostra azienda rappresenta un materiale isolante a chilometri zero e a costo zero. Grazie a te. Grazie a te. E' stata molto convincente. Dress your house with... Adnan! Io sono Ilaria. Alexandra. Andrea. Giovanni. Veronica.